L'Aquila prova a graffiare, ma l'Ostiamare è fatta di acciaio. Il big match della ventunesima giornata si chiude con un pareggio riti bianche. 0-0 fra Ostiamare e l'Aquila, con i Lidensi contenti per il punto guadagnato e gli ospiti che fanno la partita, ma sprecano tante occasioni. Morgia mette tutti i calibri grossi in attacco. Spazio quindi a Noman, Peluso e Russo, mentre senza Piroli, Greco dà ancora fiducia a Martorelli, ampiamente ripagata. E dire che nei primi dieci minuti l'Ostiamare poteva benissimo trovarsi in vantaggio. Non passano neanche 20 secondi che la difesa rosso-blu regala un pallone d'oro ad Attili, che davanti a Salvetti si divora il più facile dei gol. L'Ostiamare ci riprova al quinto minuto con Bellini. Salvetti è presente, ma dal quarto d'ora in poi c'è solo l'Aquila in campo. Gli abruzzesi impongono il possesso palla con la vista. Steri e Minincleri, palleggiatori formidabili, ma sotto porta non mordono. Al 31esimo occasione d'oro per Daniele Noman. Il tiro è forte, la mira da rivedere. Quattro minuti dopo, un lancio dalle retrovie porta Nicola Russo al tiro. L'ex Taranto incoccia bene il mancino, ma la fortuna non è dalla sua. Al 43esimo Vano prova a farsi largo di prepotenza. L'arroganza è quella giusta, la mira no. All'ultimo secondo occasione enorme per Nicola Russo. L'avvolgente manovra rosso-blu gli regala un pallone d'oro, che finisce alto di pochissimo. La ripresa inizia nel segno dell'equilibrio. L'Ostiamare lotta, corre e combatte, ma il gol non arriva. Al settimo Attili serve in acrobazia Roberti, che però cicca il tiro. La risposta degli abruzzesi è tenace. Sieno sfonda sulla sinistra. Il pallone è splendido per Noman, che si gira, ma trova Martorelli parcheggiato davanti alla linea di porta. Nel finale, l'Aquila ci prova con vemenza. Al 32esimo, altra chance per Noman, che però non è in giornata. Mentre al 35esimo ci vuole un super 4-8 sulla magnifica punizione di Minincleri, deviata in corner. Lo 0-0 finale premia l'Ostiamare per una prestazione di grande abnegazione e coraggio, su cui vi è la firma di una difesa oggi esemplare. Ancora rimandata l'Aquila, che da inizio stagione ad oggi ancora non ha vinto un big match ed in settimana ci sono i Rieti e l'Arzachena.